Prima gli avevano teso un'imboscata tirandolo in località indicatore, poi lo avevano assordito con lo spray al peperoncino ed infine aggredito a calci e pugni. Uno scontro feroce nel quale aveva perso la vista da un occhio, dovrà sottoporsi ad un intervento per rimuoverlo. Una vicenda che risale a più di un anno fa ma che emerge solamente adesso dopo che la vittima, 33enne marocchina, ha raccontato agli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo l'accaduto. L'uomo assistito dall'avvocato Tommaso Scarabicchi infatti ha deciso di sporgere denuncia dopo le operazioni subite, 4 in tutto per adesso, un quinto intervento invece servirà per rimuovere l'occhio. Probabilmente però avrà giustizia solamente a metà, infatti ha scoperto che uno degli aggressori nel frattempo è morto e quindi non sarà possibile attribuirgli alcuna responsabilità, mentre l'altro ad oltre un anno di distanza risulta irritracciabile, non ha fissa dimore e lo sta cercando la squadra mobile. L'ipotesi dell'aggressione è quella di un regolamento di conti nel giro dello spaccio di droga, ma tutto dovrà essere riscontrato da ulteriori accertamenti.